A cappella, che non è una brutta parola, è un modo per dire che è inventato proprio in antichità, in Italia, per dire che le voci sono un protagonista, non ci sono strumenti. Quindi c'è un re minore, un re minore, ce l'avete un re minore? Un re minore sale. È il momento di spedere il re minore che avete portato. È il re minore che è me. Di Claudio Baglioni, poster. Seduto con le mani in mano, sopra una panchina a fretta del petro, sei lì che aspetti quello delle 7.30. Chiuso dentro il tuo baldo, un tizio legge a tetto le istruzioni sul distributo. E nel caffè, ed un bambino che si truffa dentro ad un bigliette. Applausi. Un bambino che si truffa dentro ad un bigliette. C'è un mare diventato ad un bigliette. Un bambino che si truffa dentro ad un bigliette. Un bambino che si truffa dentro ad un bigliette. Un bambino che si truffa dentro ad un bigliette. Un bambino che si truffa dentro ad un bigliette. Un bambino che si truffa dentro ad un bigliette. L'orchestra c'è un vecchio proprio che ha lì spesso un dito cerca la risoluzione che acquista Le donne stanno parlando con le braccia piene e vissa che ti credo di E' un giocatore aperto sulla pagina per me E' un giocatore aperto sulla pagina per me E' un giocatore aperto L'orchestra c'è un giocatore aperto sulla pagina per me Ma è passato quello delle 7.30